Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado Dopo tanto tempo tornano gli scout su All Stars Oggi sono qui per scoutare per la nuovissima UR di Cotori Allora, ho anche in realtà, a dirla tutta, dei ticket Ho un SR più ticket, 52 di questi qua e 4 UR Che però non andrò a utilizzare oggi, oggi andremo a fare solo lo scout per questa Cotori Allora, come potete vedere ho 15.630 star gem, tutte free E niente, quindi ho le star gem necessarie per prendermi la Cotori con i quartz Perché sapete che servono 12.500 star gem Che però onestamente vorrei evitare di spendere, quindi Cotori Iniziamo col primo Ok Vabbè insomma, prima i standard 3 SR Oh, nuova È nuova È la Shizuku del set Inizialmente non ho neanche guardato l'SR, non me ne ricordo Quindi, cioè, io sono fissa solo sulla UR, quindi vabbè Ok Bini Primo scout andato Volevo vedere se effettivamente è quella Shizuku Eh sì, è quella in Raitap Che miracolo Andiamo col secondo Ok Ok SR anche qui Ok Ok, due Tre Quattro Quattro SR Ok Nuova Oddio Mamma Questa ce l'ho già Non ho fatto in tempo a vedere quella Rina Non mi ricordo Secondo me è nuova Però Oh, Shioriko Oh, Shioriko Ancora questa Shizuku E questa Onoka che ho già Esatto L'avevo trovata secondo me qualche giorno fa Qualche io l'ho pagato Perché Sì, quella Rina è nuova Perché c'era L'offerta delle Stargem 50 Stargem Al costo di 10 E quindi le ho prese Per tre volte Che era il massimo che si potevano acquistare E avevo fatto degli ioli Un po' per Kanan Ciao RicoFest E un paio li ho fatti anche in questo banner di Kotori E l'ultimo stamattina Nel banner di Setsuna E ho trovato appunto questa serie di Onoka E un'altra SR di Kanan E basta Non mi ricordo se ho fatto lo screen Lo rifaccio Sì, ok Andiamo con il terzo Oh no, il Mystery Non mi piace Non mi piace il Mystery Pool Ok, credo Niente ur Credo sia solo SR Non ho la garantita, please La garantita, wow Non è vero Perfetto Ok, questa Aia è nuova, sì Ok E io direi che il resto schippo di prepotenza Ok, infatti Non è suerrato nulla Quindi, bene Cioè, bene Non tanto bene Bene Andiamo con il quarto Tsun tsun, please Non farmi usare tutti questi Stargem, please Vabbè Che vedevo di Una, due Tre 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 SR Voilà Questa è nuova No, non è nuova Questa, cari Questa non è nuova È nuova Questa Setsuna Che corino Bene Io schippo Perché poi Le altre Erano tutte rare Visto che Gli scout Saranno tanti Andiamo con il quinto Please Waifu, please Tsun 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 Mamma, cara 2500 Stargem Zero R Mamma mia L'assicurata Me lo sento Ecco Perfetto Benissimo Questa Yoshiko Non è nuova E schippiamo Ok Evviva Evviva C'è proprio La gioia Sesto Scout No Non ci posso credere No What Impossible Una altra Garantita Yee È nuova Anche questa E vabbè Schippo Perché Cioè Ok Bene Cioè bene Non manco per il cavolo Bene Ma Aspettate Cosa sto schiacciando Voglio vedere Ma c'è La Volevo capire un attimo Aspettatene Details No Volevo vedere Ecco qua I rate up Non mi morire Ok C'è il rate up Ma a quanto pare E adesso mi muore il gioco Gioco Ok Andiamo con il settimo Scout Cion cion Dai Grazie Finalmente Può 3500 No Sì 3500 Sparge Grazie Dov'è? Dov'è? È l'ultima Proprio Ok Nuova? Sì Ok Andiamo Avanti Veloce Che voglio vedere Quale OR Mi esce fuori Sicuramente Non sarà lei Ma Vabbè Oddio Chiotti Pana Non avevo capito Non avevo capito Pala con le alpaca L'amo Ciao Mark Mi viene da ridere Spero non sia l'inizio di una cursa Oh sì Chiotti Chiotti Pana Ok Andiamo con l'ottavo Ok Inizia un pochino Ho riconosciuto Ho riconosciuto la voce di Anaio Prima Non diamoci conto Vabbè Non ho parole Ok Vabbè Ok Questa Yoshiko Chi è? No Aiumu Ok Sono contenta Però Tra l'altro È un SP Come Kotori Almeno Credo che Kotori Sia un SP Perché È tipo Full Aiumu Questo scout Vabbè Andiamo con il nono So già che la dovrò prendere Quei quarzi Eh Torniamo All'SR Mamma mia Che 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 Tragicità Proprio Ma Ma Come una UR Ma Mi sono persa Oddio Ce l'ho già Questa Aiumu Ok In questo set Non è che abbiamo trovato Prima Vabbè Posso schippare Perché le altre Erano rare Vabbè Ok Cioè Ok Vabbè Andiamo avanti Con il decimo Siamo quindi A quota 5.000 Starge Qui ce n'è più di una Più di una Sarei Stop Please Non farmi soffrire Please Oh mamma Andiamo Una No 3SR Dove sono le UR Ok Eccola Ma scusa Non doveva essere una Cioè Non doveva essere due C'è qualcosa Che suirla ancora Questa Maio Che carina Ok Questa Umi nuova Ma perché solo una Dovebbero essere due Che carina Questa Maio Ok Non capisco Non capisco Chi è Ma Ancora Ancora Fana Che carina Che carina Cioè Dovrei avere ormai Praticamente Quasi tutte le sue UR E questa ce l'ho già Sì Comunque non ho capito Perché Cioè Solo una Forse La scritta Arcobalena Dello start Mi stava a indicare Semplicemente Uno swirl Non l'ho capito Boh Vabbè Comunque Ok Siamo a quota 4 UR In 10 scout Ovviamente Nessuna In rate up Ciumciun Please Ok Ok Please Why È la prima Io soffro Ok Chi è Uffa Ma scusa Ma è quel No Eh sì Ancora questa Canon Vabbè Ricciao Mark Che la cerchi Almeno Se è Quella Canon Che dico io Ma dovrebbe essere Proprio L'initial Quindi Vabbè Rip Sì è lei È quella Canon Va bene Però 12 Scout Mamma mia Non si può Non si può Non si può Risparmiare così tanto E poi Doverla prendere Quei quarzi Non si può E qua c'è la garantita Così tanti scout Con la UR Ebbè È chiaro Dobbiamo ristabilire L'ordine naturale Dell'universo Dai E questa è io Tra l'altro Io che faceva parte Del banner Della UR Dolci Dico Tori Ovviamente Schippiamo Perché Ok Vabbè Allora Allora Voglio andare A vedere una cosa Ah non sono qua Vorrei evitare Di fare una cosa del genere Please Quattori Please Amami per una volta Questo è Il banner Cioncion Please Cioncion Non so neanche Se dividere Lo scout In due parti Perché Secondo me Sta venendo Parecchio lungo Boh Vedrò Due SR Vabbè Questa è nuova? No Non è nuova Perfetto Ok Che memoria Amici Vabbè Ancora Questa Onoka Vabbè Ascolta Skip Perfetto Torniamo Indietro Quattordicesimo Scout Mi fa fare Veramente Tutti E 25 Una tortura Una tortura Please Don't be Ecco Grazie Non è garantita Don't be Ce l'ho già Quasi Limit break Questa Limit break Questa Shizuku Vabbè Vediamo Vediamo Chi è L'altra SR Ancora Questa Yoshiko Che anche Lei fra un po' Prossimamente Arriverà Al limit break E vabbè Bene Andiamo Con il Quindicesimo Cioncion Che lo dico Fare Cioncion Qua Oddio Oddio No Ho schiacciato Senza volere Vabbè Ok Ecco Limit break Please Waifu No Karin Ok E' nuova Bla bla Che screen Orribile Aspettate Va Ecco Evviva Non mi ricordo Se c'era un'altra SR Non credo Quindi Schipo E buonotte Sognatori Esatto Vabbè Andiamo Con il Sedicesimo Cioncion Eh È inutile È inutile Che continuino A usciermi UR Stanto poi Non sono quella Che voglio L'unica Che voglio Adesso vi immaginate Che mi esce Una guerra Di cotori Ed è una Che ho già Tipo l'initial O la secret party L'ultima Proprio 3SR Ho chiudi Questa panna È nuova Sotto che DSR Di cotori Zero Cioè Zero Ma questo Non è un buon Segno Vabbè Devo dire Che Anayo Mi sta amando Abbastanza Anche Yoshiko È nuova Questa Yoshiko Sì Adesso Dovrebbe esserci L'AUR No Adesso Sì No Dimmi che è lei No Dai No Perché io Me le tiro Dai Perché me le tiro Perché me le tiro Perché Waifu Waifu Lo vedi anche tu Che se vuoi Mi ami Come io amo te Quindi please Esci con la UR giusta Per favore Per favore Cioncion Cioncion No Maria Gesù Giovanni Giuseppe Che Giovanni Avete capito Ti prego Please 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 Dai RLG Please C'è il Degrado Ciao Degradini Su Discord Please No Perché Setsuna Perché Setsuna Un schifo Sono troppo Arrabbiata Ma Un attimo Però Un attimo No Non è la Setsuna Del banner È un'altra Setsuna Ok Perché Sennò Veramente C'è Il trigger Al massimo Cioncion Please Diciottesimo Scout Siamo Quasi Al venticinquesimo Ma Perché Comunque Se le ho segnate Tutte Se le ho segnate Tutte Ho trovato Per ora Sette UR Ecco La garantita Questa Nikodai Vabbè Ce l'avevo Già Questa Cleanser E via Olè Andiamo con Il diciannovesimo Comunque Veramente È una tortura Risparmiare Così tante Stargeme Non trovare Ecco E trovare L'ennesima UR Che non è Quella Che cerchi Ora capisco La sofferenza Di Gabriella Ciao Gabriella Ti mando Un triplo Abbraccio Perché Veramente È Terribile Terribile Ecco Fra un po' Arriva il limit break Anche questa Shizuku Ti prego RNG Perché mi funzioni solo Che carina Nuova RNG RITAP Perché mi funzioni solo Sulla SR Funzionami anche Sull'AUR Please Lasciami con un po' Di stargem Please 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 Vabbè Eccola Oh no Qui saluto invece Emma Ciao Emma Per questa Casumi Maria 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 Ventesimo Scout Vabbè Ma secondo voi io perché ho risparmiato così tante risorse perché già sapevo che sarebbe andata a finire così Quindi quindi in pratica mi posso tranquillamente scordare Kanan Fess Nuova questa Yumu carinissima e quindi continuerò a risparmiare per la successiva guerra di Kotori anche se non so a sto punto se riuscirò ad arrivare nuovamente a così tante stargem Vabbè la worst nuova va a fan bagno chi se ne frega schippiamo che merda Scusatemi eh io fag come sempre ventunesimo siamo quasi alla fine Eeeh che bello avremo una garantita Oh santo cielo Due FR Vabbè Che gioia Questa Niko che è nuova Ancora ecco il limit break questa Yumu perfetto Adesso schifo perché tanto le altre erano solerare quindi andiamo avanti Bene Bene un corno ma vabbè Neanche un SR di Kotori L'unica UR era quella sbagliata perché Please Please Adesso voglio vedere cosa succede con la start arcobaleno Perché io pensavo che fossero più di una UR Invece Prima è semplicemente stato uno swirl Quindi voglio capire Ok una Ok Due UR Madonna quanta roba 3 SR e 2 UR Ho visto bene Ti prego Umi Umi Sì Nuova Si Vabbè Tanto No Please Please Dimmi che a lei Dimmi che a lei Ti prego Sì Il potere della Kotori ha vinto Sì 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 Lo sapevo Che bello Che ha questo scout Con la mia Bellissima Kotomi E poi c'è anche Rico Adoro Adoro Grazie Grazie Quasi alla fine Mi hai risparmiato Tre scout Mi hai risparmiato Mannaggia A te Mannaggia A te Finalmente Finalmente Bene Amici Direi che Il video Finisce qui Non so quanto è durato Non so se lo dividerò In due parti Ci penso Un attimino Comunque In 22 scout 22 scout Che sono Quante star gem 11.000 11.000 star gem Ho trovato Se le ho contate tutte 10 UR Non è malaccio Come media Però insomma 22 scout Per La UR Che mi interessava Vabbè Comunque Io vi ringrazio Per aver visto Questo video Ci vedremo Molto presto Perché Sono in arrivo Vari video scout Su Sif Uno Sicuramente Sul JP Riguardo Alla nuovissima Party UR Di Mari E Rico E su Leng Anche lì Ci sono Tanti scout In programma E quindi Rimanete Sintonizzati E se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale E io vi saluto Ciao a tutti Ciao Ciao Che baldracca Che sei Che baldracca Che here Ciao